Io niente, volevo solo dire che partecipiamo a questa importante campagna, si chiama Dico No alla Droga, è una campagna patrocinata dalla Chiesa di Scientology, aperta a tutti. Infatti noi siamo degli artisti come Paolo Conte, Danilo Merio, Giorgio Faletti, prossimamente Franco Fasano e tutti i farinei da brigni e tanti altri artisti e attori partecipano in maniera spontanea a questa campagna semplicemente per salire su un palco e dire ai giovani ragazzi non drogatevi che non serve un tubo, per essere deficienti basta diventare dei farinelli anche perché pensiamo che più stupefacenti di così non si possa diventare, per cui dai farinei da brigni sempre No alla Droga!